Allora, sicuramente la mia fiera, l'accettazione di me stessa e il fatto di capire che tanti aspetti che magari si considerano svantaggi sono in realtà dei grandi pregi, e invece la mia guida, la mia Virgilio, la mia prof d'inglese. Secondo me Dante parla proprio ancora all'attualità, io lo sento molto dentro di me, forse perché sono toscana, forse perché appunto l'ho sentito anch'io tanto leggere dai nonni, ma secondo me parla ancora proprio all'uomo di oggi, il senso del mio lavoro, sperare di poter accendere in qualcuno una luce, io spero che possa essere così.